che famo gildare che sta sbucciare patate amori ciao belli mia ciao allora ho lessato le patate ah già sono lesse queste ah eccola sbucciando che facciamo un bel piattino con le patate facciamo le patatine faccio sbirciacquavata ecco e mo vedemo che c'è combina a gildarella faccio vedere ecco qua io adesso le sto vuotando vedete ce l'avevo un po' del dentro eh l'ho spaccato a metà eccole qua vedete ecco così ecco fatto sa che patatone gildare le patate già sono cotte eh perché se le mettete crude invece vorranno tre ore prima che si cuoce invece voi le lessate interi con la buccia e poi le levate un po' del dentro vedete ecco fatto così poi per la cottura vi regolate voi in base alla grandezza delle patate no? certo certo vabbè però le patate devono essere questa grandezza pressa a poco vabbè pure se sono leggermente più piccole non è un problema oppure più grosse comunque la cottura regolate voi fate la prova stecchino insomma vero gildare? vado tutta occhio e voi sinceramente mi ero pure scordate se muovatevo di tutta ecco si rischiavamo pure di far pure va? invece di fare le patate ripiene gildare? belle barchettine di patatine eh io le faccio belle le svado bene eh parecchio eh che deve qua ti eh ecco faccio ce n'è un'altra e poi c'è gildarella non ci sono eh allora patate appetitose qua eh ci vengono fuori allora questa che è un po' di patate queste sono un po' di patate quelle che io ho levato dalla dentro non ho messe proprio poche eh perché se dobbiamo fare i piene dobbiamo fare i piene le robetta gaiarda allora questo è 100 grammi di prosciutto eccolo qua eh prosciutto cotto che io ho tutto tagliuzzato vedete ecco qua bello piccolo piccolo eh poi qui c'è 130 grammi di mozzarella filante a pasta filata vai mischia tutto coi mani gildare ecco della tie eh certo eh così se gira bene gildare ecco qua che sta a contare gildare? 5 6 7 che stai a contare qua pezzettino per ogni barchetta eh ok adesso mettiamo un pochino di parmigiano ah capolavoro qua eh besciamella ecco un pochino eh spettacolo che buone come ti è venuta stile di patate che ma come mi è venuta? eh da mo che non mi facevi più gildare eh l'ultima volta che ti ho chiesto e no non mi va non so devo trovare la giornata eh oggi mannava che vuoi? no a me va bene è buone mi vanno pure a me ecco qua belli mia eh vedete? belli carichi così belli mia ma come state? eh che te la ti eh sta a posto belli eh? ecco qua si è mamma mia che robettina che mi dite? che mi dite di bello? che mi dite di bello? troppo carine queste barchette di patate gildare ecco qua datela com'è presa gildare eh lo so è questo che ridi 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 sei carina sei carina a vedere eh dall'altra parte del tuo schermo sai gildare eh? eh si eh sei uguale come tardivo gildare vedete lo mette tutte eh perché tocca finirla sta roba eh goccette latte goccetto di latte eccolo eh ecco qua eh nella besciamella allora questo era un bricchetto di besciamella quello piccolo eh va bene? ci ho messo un po' di latte perché la devo mettere sopra capito? e allora si deve sciogliere un po' se no era troppo sotto non importa vai con la colata vai si è allora io il sale non l'ho messo ma voi mettete il sale dentro la patatina quando prima che le mette tutto quanto mettete il sale va bene? va bene? ecco qua si è guarda che robetta gildare che te possi no? mettiamo che mettiamo? oddio oddio raga un po' di parmigiano ecco fatto vedete ecco qua adesso mettiamo un pochino di olio vedete ecco qua l'olio ci vuole raga ecco fatto non è neanche esagerato eh proprio filo 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 mazza come sei precisa eh allora adesso le vado a infornare a 180 per un quarto d'ora dopo abbasso un pochino e le faccio vabbè queste già sono cotte insomma uno si deve rendere conto quando sono pronte comunque una ventina dei minuti ce vuole pure mezz'oretta poi ve regolate voi va bene? va bene? dai calde calde appena sfornate guardate che patate eccole qua allora io non la assaggio ma però ecco la metto qua sopra per farvi vedere insomma ecco che qui poi si forma il sughetto vedete guardate il sughetto che poi lo mettete sopra ecco oddio oddio guardate un po' ecco fate così guarda che roba e poi la magnate c'è pure il piatto che i fiocchetti avevo messo sta bene? eh gildare? valori? niente assaggio eh no dai te prego non ce la fa gildarella niente assaggio che ha detto dopo si assaggio un pezzo ma tu mangià tutta dopo io devo mangià e non mangio o un ceno o un pranzo eh no eh eh vabbè dai te perdonano guarda tanto guarda te perdonano tutti gildarelle pure che non fai l'assaggio eh sana di tutti che sia simpatica quindi vai qua dentro eh mi dispiace ecco dai va bene amori ecco qua dai su ecco fatto vabbè vi sono piaciute ste patatine guardate un po' non so io qua va bene eh stai vieno a mettere mani eh eh infatti guarda sono tutte consumate ste dita io dai bruciatore mmm che spettacolo che profumino vabbè dai che va su ecco un pezzettino proprio guarda eh perché sono irresistibile dai Eva partita sei sicura che basta sicura 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 buonissime buonissime ok proprio arbacio arbacio vabbè belli mia allora tanti baci belli dispersi dal cuore amori miei va bene mobili ogni amore lì belimi Harry bah baci grandi a tutti da ti bacioni e sempre dalla cucina di gila e dal cuore ciao grazie ciao ciao